3, 2, 1 Ehi, ciao ragazzi, un saluto da Dr. Palmas, dentista sardo in Moldavia. In questo video oggi vi rompo un blocco mentale che molti pazienti hanno purtroppo in Italia che li porta poi a perdere completamente i denti nel tempo. Molti di voi pensano che si arriva a una situazione di questo tipo, la lastra per esempio questa di un paziente che ha perduto quasi tutti i denti, perché si è sfortunati oppure perché si era portatori genetici di carenze, di difese del nostro sistema immunitario oppure perché semplicemente si fumava o perché il dentista ha sbagliato tutto. Il più delle volte ti posso dire che buona parte dei casi, uno su due, il motivo è semplicemente perché non si è fatta diagnosi. Diagnosi significa che il paziente non sapeva di essere malato, non sapeva di andare incontro alla perdita dei denti e si ritrova poi a avere questa brutta notizia in un momento tardivo della malattia. Significa che il paziente arriva in uno stadio come questo quando ormai non c'è più nulla da fare. Se un momento prima il paziente si fosse fermato ai primi sintomi, alle prime avvisaglie di un problema a dire, caspita forse dovrei approfondire, vedere se c'è un problema, allora moltissimi dei malati in Europa che hanno perso i denti per piorrea parodontite, non parlo di quelli per incidenti stradali oppure pazienti tumorali, anche lì sarebbe stata da fare diagnosi precoce, allora loro non avrebbero dovuto spendere un sacco di soldi per rifare tutta la bocca. Prendi dieci minuti del tuo tempo, della tua giornata per fare una visita da un dentista e verificare che in bocca non ci siano i problemi, se hai sanguinamenti dentali, mobilità dentali, se c'è alitosi, oppure se hai dei dolori costanti da tempo all'interno della bocca che possono sembrare dei problemini, dei piccoli dolorini, ma delle volte possono essere l'avvisaglia di un qualcosa di più grave. Allora quello è il momento di fare diagnosi, diagnosi precoce se c'è qualcosa o semplicemente avrai fatto un check up di routine che ti avrà evitato di avere tanti grossi problemi in futuro. Quello che serve è fare una visita da un dentista oppure delle volte molti pazienti che vogliono avere un parere così a distanza ma non parliamo di diagnosi perché non si può fare diagnosi al telefono o da una semplice radiografia, è lungi da me dare questo genere di informazioni che danno altre cliniche all'estero che ti dicono mandaci la radiografia e ti facciamo un preventivo. Quello è scorretto, quello è ingannevole perché non si può fare una diagnosi, per di più una diagnosi precoce attraverso un solo esame radiografico. Nella radiografia, ti faccio vedere, questa è la radiografia dei miei polmoni, sani, per fortuna non ho, io faccio dei check up comunque annuali, vado dai medici a fare dei controlli, qua per esempio non vedi di che colore è il mio cuore, qua non vedi di che colore è la mia pelle, non sai se sono una persona di colore o bianca, qua in realtà non vedi la tridimensionalità del mio torace, è una lastra bidimensionale, le radiografie sono solo una parte del percorso diagnostico che occorre per arrivare a fare poi un preventivo di cura. Quello che si può fare attraverso una radiografia è però qualcosa di utile, è sapere o meno se è il caso di avventurarsi all'estero, se ne vale la pena avventurarsi all'estero. Noi già da una radiografia come questa ti possiamo dire guarda andando all'estero ci potrebbe essere un buon risparmio, ma se vediamo alcune cose che invece non è il caso di andare all'estero, avventurarsi all'estero, ti faccio vedere per esempio una radiografia per cui non ha senso andare all'estero ed è per esempio questa, questa vedi una radiografia qua di un paziente che ha completamente tutti i denti, un paziente che ha tutti i denti non ha senso che ci mandate la radiografia perché già vi diciamo, noi siamo un centro iper specializzato, si potrebbe dire in trappianti, non si va all'estero per un raffreddore, all'estero si va per cure gravi, pazienti che hanno perduto completamente la dentatura, pazienti come questo, questo è l'attacco di un paziente, vedi che sopra ha perduto tutti i denti, non ci sono più denti qua sopra, sotto li sta perdendo, c'è una parodontite avanzata che li sta portando ormai al momento della estrazione, in questi casi andare all'estero ti consente di risparmiare parecchio, parliamo di decine e decine di migliaia di euro, i soldi che si risparmiano all'estero, in Croazia i prezzi ormai sono come in Italia, in Moldavia qua dove operiamo noi parliamo di il 50% rispetto alla Croazia, il turismo dentale non è un fenomeno che muore, è un fenomeno che si sposta, prima si andava in Croazia, poi si è andato in Romania, ora si va in Moldavia, qualcuno va in Albania, però fate attenzione, perché sto vedendo delle cose in Albania come denti incollati, pazienti a cui vendono provvisori come se fossero definitivi, ma non mi va di parlare di questo, in questo video vi sto mettendo il focus su quanto sia importante spendere 10 minuti del proprio tempo, alzare il telefono e prendere un appuntamento magari col vostro medico di base per fare una radiografia in un qualsiasi centro radiologico che fa ortopanoramiche, radiografie della bocca, potete andare dal medico di base, spiegare quella che è la problematica che state avendo, per ricerca foci dentali è possibile avere una prescrizione anche del medico di base per fare questo esame anche privatamente, presso un qualsiasi centro radiologico della tua provincia o che è convenzionato con l'ASL, ma alla fine tra farlo privatamente con l'ASL una panoramica va a costare su per giù quasi lo stesso, quindi una quarantina di euro, 30 euro, dipende dove vivi, dove vivi più o meno quello è il costo, fai una fotografia alla lastra, la metti contro il cielo, fai una foto col cellulare e ce la mandi su whatsapp, clicca sul link qui sotto se vuoi avere qualche informazione di più. Ripeto, con questa radiografia noi non ti faremo una diagnosi, non è corretto e non possiamo farlo, ma ti possiamo far avere un'idea su una quotazione di quello che si potrebbe spendere, per esempio al nostro policlinico. Chiaramente per un preventivo di spesa finale, il consiglio che diamo a tutti i pazienti prima è fare una diagnosi qua in Moldavia, fare tutta una raccolta di esami, dobbiamo vedere quali denti fanno male, quali si muovono, il colore delle gengive, se c'è sanguinamento, la disposizione delle arcate tra di loro in statica, ma anche dinamica. La TAC per esempio non ci fa vedere la mandibola in movimento, e molte cose come la patologia dell'ATM noi non le possiamo vedere finché non vi visitiamo di persona. Fai attenzione a chi ti promette preventivi a distanza solo dalla panoramica, perché ti assicuro quella è una truffa, è una truffa perché se poi quando ti visitano, e ti posso dire 9 volte su 10, quando ti visito le cose sono diverse, ma in meno o anche in peggio, cioè in meglio o in peggio, se io invece ti dico che ti devo fare quelle cose che ti ho detto per telefono, quando stavi in Italia e non ti avevo mai neanche visto, se poi faccio quelle cose, allora probabilmente ti sto facendo o meno cose di quelle che dovresti fare, o più cose di quelle che dovresti fare, 9 volte su 10. La pratica corretta è o medico di base o dentista, fai una radiografia, inviacela, puoi ottenere quella che è una quotazione su per giù quello che si potrebbe spendere, ma rimani open mind, con la mente aperta, perché sinché non si fa una diagnosi, non è possibile parlare di piano di cura definitivo. Quello che possiamo inviare a distanza è solo una quotazione, una quotazione per avere un'idea di quelli che sono i nostri prezzi. Io sono Dottor Palmas, dentista sardo in Moldavia, cervelli in fuga, me ne sono andato via dall'Italia anni fa, se hai bisogno quindi di conoscere quelli che sono i nostri prezzi, clicca qui sotto, mettiti in contatto con noi, io per ora ti saluto qua dalla Moldavia, un abbraccio da tutto il mio staff.